Essere il primo sindaco donna di Acqualagna, questa è l'aspirazione di Laura Biagiotti che dal territorio di Acqualagna di fatto è stata adottata negli ultimi anni e che non è nuova esperienze politiche ma che dopo una lunga esperienza, 17 anni alla presidenza dell'Ordine degli Infermieri, ora affronta questa nuova avventura con quali obiettivi? Sarebbe veramente bello e interessante poter diventare il sindaco della capitale del tartufo, della grande per me cittadina come è Acqualagna. Non mi ha dato i Natali, è vero, però posso dire che ci vivo ormai e frequento Acqualagna da più di 12 anni, di mora fissa, mentre prima già la frequentavo da bambina con la mia famiglia. E devo dire che poter pensare che un'infermiera diventi sindaco penso che possa essere un orgoglio di tutta la nostra professione sanitaria, quindi non per me ma anche per tutti i miei colleghi. E soprattutto riuscire ad andare a governare una cittadina come Acqualagna che ha sicuramente tanti pregi, ha da dare veramente tanto, non solo agli acqualagnesi ma a tutta la nazione che può venire a visitare le bellezze di Acqualagna. Il tema della sanità è un tema centrale nella sua esperienza professionale e che diventa anche centrale per quello che è un comune come Acqualagna? Beh sicuramente è uno degli aspetti che noi andremo a trattare proprio nel nostro programma elettorale, anche perché le nostre difficoltà essendo un paese dell'entroterra non sono poche. Di certo il mio obiettivo sarà quello di instaurare subito il rapporto con i cittadini, aprire uno sportello di informazione per poter aiutare e supportare la cittadinanza a venirne fuori da tutto questo groviglio di mancanza di assistenza sanitaria, di difficoltà anche a prendere la semplice prenotazione per un esame diagnostico o degli esami chimici. Come è composta la lista civica a sostegno di Laura Piazzotti? La nostra lista civica che si chiama Prospettiva Futuro sta proprio a rappresentare la voglia di portare una prospettiva futuristica in Acqualagna, decidere oggi per quello che dovrà essere Acqualagna domani. Ed è composta da 12 candidati che rappresentano sia un pensiero politico di sinistra sia un pensiero politico di destra, quindi è trasversale. Ci uniremo insieme per portare avanti gli obiettivi per Acqualagna e abbiamo persone meno giovani che porteranno già la loro esperienza che hanno sia in campo amministrativo e politico in Acqualagna e la loro grande professionalità e le persone anche meno giovani fino a una ragazza di 19 anni che porteranno le loro brillantezze, le loro fantasie e le loro voglie di far emergere le bellezze di Acqualagna.